Ecco vedete, un piccolo accorgimento per risparmiare acqua, ma noi stiamo pulendo la macchinetta del caffè e l'acqua la raccogliamo in questo contenitore, perché poi questo contenitore lo useremo per innaffiare i fiori, perché questa comunque è acqua dolce pulita. Certo voi direte, questa cosa non è che salva il mondo, non salva il mondo, però ci mette in un'attitudine diversa, ci fa capire quanto sono importanti le risorse, adesso noi la prendiamo e ci bagniamo due piantine di fiori.